Quali sono le tecniche per coprire i capelli bianchi? Adesso ne vediamo alcune. Uno, la colorazione permanente, la più usata. Naturalmente ha una vasta gamma di colori, ma ricordati sempre che ogni 4-6 settimane bisogna fare la ricrescita. Questo però copre completamente i capelli bianchi. Poi abbiamo i tono su tono e i semi permanenti. Questi naturalmente coprono un pochino meno rispetto al colore, però vediamo meno la ricrescita. Poi troviamo gli spray, che quelli li possiamo usare tra un colore e un altro, coprono la ricrescita e ci possiamo andare avanti per un lavaggio. Se no, abbiamo gli shampoo colorati. Gli shampoo colorati si usano come uno shampoo, ma van via subito. Un'altra idea per camuffare i capelli bianchi potrebbe essere o fare delle schiariture, ma anche quelle comportano una non copertura e un movimento di colore che andrà ripreso dopo magari 4-6 mesi. O se no, si potrebbe prendere alcuni capelli bianchi sempre in cartina, però anche quello comporta che dopo un toto di tempo andrà rifatto e non si possono prendere completamente tutti i capelli bianchi, ma quelli che vengono presi vengono coperti completamente. Quindi per scegliere il colore giusto consulta sempre un professionista, perché per ogni persona è importante scegliere il proprio colore. Seguimi su altri video per la cura dei capelli. Ciao!